Custodiva un carico di cocaina e marijuana in una Citroen C3 in via San Paolo, alle spalle della Palacultura Antonello da Messina. La usava come deposito, ma il comportamento del 26enne albanese, Ergis Sametai, non è sfuggito ai poliziotti. Così ieri pomeriggio alle 17, mentre era impegnato a ravistare con la torcia del cellulare all'interno della sua Citroen, non si è accorto che stavano arrivando i poliziotti e quando gli agenti erano ormai a pochi passi là d'auto, il 26enne ha tentato inutilmente di disfarsi di una parte della droga, gettandola dallo sportello posteriore. Altra marijuana e alcuni grammi di cocaina erano praticamente ovunque nell'auto, distribuiti in sacchetti e confezioni tra sedili e tappetini. Trovati dai poliziotti anche due bilancini di precisione per la pesatura della droga, due attrezzi per la prestatura, una macchina per il confezionamento delle buste in cellofan, due noccoliere e la somma di 1.165 euro. I poliziotti hanno poi trovato indosso al 26enne le chiavi di una seconda auto, una BMW parcheggiata a lungo via 24 Maggio, all'interno della quale nel cofano i poliziotti hanno trovato un altro bilancino ed un ulteriore quantitativo di droga per un totale complessivo di 2,5 kg di marijuana e 5 grammi di cocaina. La Citroen C3, acquistata per poche centinaia di euro, è lasciata appositamente in sosta, così come ammesso dal 26enne era facilmente raggiungibile in ogni momento e serviva per custodire la droga. Per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di Gazzi.